Ben ritrovati sul canale il vino al calice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono un sommelier e in questo breve video parleremo del vino in lattina, per fare bella figura ma senza esagerare. Da qualche mese, soprattutto seguendo i vari social, ho notato che accanto a foto di bottiglie dalle etichette più o meno originali, accanto ai calici di vino pieni, magari con il tramonto dietro, il vino appena versato, sempre più spesso, non arriva da una bottiglia ma da una lattina. Non nascondo che le prime volte ho pensato a del vino di scarsa qualità o comunque a dei post stravaganti fatti giusto per attirare alcuni click. Poi, incuriosito, ho iniziato a informarmi ed ho scoperto che quello del vino in lattina è un fenomeno che non va lasciato da parte. A livello di numeri, infatti, il vino in lattina è una realtà che oggi sta prendendo sempre maggior piede a livello mondiale. Il mercato del vino in lattina nel 2021 è stato di 235,7 milioni di dollari di vendite e si prevede che il mercato globale continuerà ad espandersi superando i 570 milioni di dollari verso il 2028. Il vino in lattina richiede di andare oltre gli schemi e non a caso i giovani sembrano cogliere i vantaggi del vino in lattina, soprattutto in paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia. Il vino in lattina risulta adatto ad eventi come concerti e simili, in cui la lattina risulta sicuramente più pratica. La lattina, poi, è più adatta ad un consumo da parte di chi vive da solo, per esempio. L'alluminio, inoltre, è riciclabile al 100% e la produzione di lattine ha un impatto ambientale inferiore rispetto a quella del vetro, in quanto produce meno CO2 per la maggior facilità di trasporto. La lattina permette una maggior semplicità di stoccaggio e conservazione, in quanto occupa meno spazio ed è più resistente rispetto alle classiche bottiglie di vetro, motivo per cui è anche più facile il trasporto, sia per chi le vende, sia per chi le acquista. Essendo meno fragile, la lattina ha meno probabilità di rompersi e quindi produce anche meno rifiuti, per cui è apprezzata anche per la sua maggior ecosostenibilità rispetto al vetro. La lattina, inoltre, è ben adatta alle campagne sul bere con moderazione. Visto tutto ciò, però, la domanda che probabilmente vi ponete assieme a me è se questi vini alla fine abbiano una buona qualità. È buono il vino in lattina? Wine Spectator riporta degli assaggi alla cieca di quasi 60 vini in lattina, con più della metà che hanno ottenuto punteggi compresi tra gli 85 e gli 89 punti su una scala che arriva a 100. Punti con un'importante crescita del livello del vino rosso che ha eguagliato i punteggi dei bianchi e dei rosati. Questo, nonostante alcuni addetti ai lavori, dichiarino che creare vini di qualità a mettere in lattina si possa fare, a patto però di adottare degli accorgimenti che non sono secondari, come per esempio quello di tenere bassissimo il livello di solfiti, perché se da un lato conservano, dall'altro rischiano di corrodere essendo molto acidi e l'alluminio è più facilmente corrosibile rispetto al vetro. Sono di fatto necessari lunghi e numerosi test prima di arrivare sul mercato e fino al 1996 il vino non poteva rimanere all'interno della lattina per troppo tempo. Nel 1996 il problema è stato risolto da un'azienda australiana che in seguito ad una lunga ricerca brevettò una tecnologia chiamata VinSafe che permette di conservare il vino in lattina anche per 5 anni. E l'Italia? Beh, l'Italia è in una situazione molto particolare in quanto oggi è uno dei paesi con il più basso consumo di vino in lattina. Il particolare però sta nel fatto che fu uno degli apripista in Europa. Nel 1978 infatti la cantina Giacobazzi di Modena chiese la possibilità di mettere il vino in lattina. Era un qualcosa che negli Stati Uniti già si faceva da 40 anni prima. Giacobazzi riceverà l'autorizzazione solo nel 1982 per i vini fermi. Il permesso per confezionare il vino in lattina però era provvisorio e veniva rilasciato di anno in anno. Durava solamente pochi mesi. Era estremamente difficile pertanto poter soddisfare le esigenze di tutti i clienti e soprattutto era molto difficile la programmazione. Per questo la cosa cessò. Ad oggi abbiamo comunque delle realtà italiane che producono vino in lattina. Il prodotto è destinato soprattutto all'estero. Sembra che non solo in Italia una spinta importante sia stata data con i cambiamenti del mondo dell'asporto portato dal lockdown. In ogni caso voi cosa ne pensate del vino in lattina? Lo avete già assaggiato? Lo conoscevate? Prossimamente noi vorremmo aprire insieme un paio di lattine per degustarle. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Alla salute!